Lo spettacolo teatrale Bellezza in Bicicletta sulla resistenza del ruolo femminile in quel periodo, stamattina al Masaccio a San Giovanni è stata occasione di celebrazione per la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, ma anche quella di presentare il ruolo della nuova consulta Pari Opportunità del Comune, da poco instaurata dopo la selezione delle candidature. Importante questa giornata da passare con i ragazzi e sono venuti per ascoltare il nostro messaggio. Quest'anno la storia di cinque donne di tanti anni fa che però ancora ci parlano del loro impegno, della loro reazione positiva di fronte alla violenza e questo è il messaggio che vogliamo dare ai ragazzi, un messaggio di impegno e di speranza. Ci siamo instaurati qualche mese fa a inizio legislatura, c'è stato un bel ricambio anche a livello generazionale, l'attività stessa della consulta è svolta in collaborazione con altri enti e associazioni del territorio, faccio riferimento alla sezione Coop di San Giovanni Valdarno e di Montevarchi, alla Commissione per le Pari Opportunità di Montevarchi, che insieme hanno costituito il coordinamento unitario per l'8 marzo. La consulta ha una pagina Facebook e al nome Consulta Pari Opportunità SGV e sia per l'attività svolta dalla consulta che per gli orari dello sportello Ascolto Donna sono rinvenibili informazioni anche sul sito del Comune di San Giovanni Valdarno.